Ringrazio tutti voi per essere qui e ringrazio quanti sono collegati via Zoom e da remoto per seguire questa lezione e ringrazio da parte mia naturalmente il Circolo dei Lettori, il Festival, Ugo Cardinale e Luciano Canfora che lo presiedono e lo animano per questo invito. Mi è stato dato un tema assai complicato e scivoloso al quale io non saprò dare risposte conclusive e definitive, però cercherò un po' di ripercorrere questo statuto un po' ambiguo, un po' inafferrabile della schiavitù o della condizione servile così come traspare dai poemi di Omero. Inizio però dalle pagine di un grande grecista, di un grande classicista Richard Jebb che nel 1887 scrive un'introduzione a Omero e dedica un paragrafetto breve al tema slavery, schiavitù, e scrive la seguente frase la schiavitù in Omero era meno ripugnante che in altri periodi dell'antichità meno ripugnante, less repulsive perché, diceva Jebb, era una schiavitù legata essenzialmente all'ambito domestico e perché gli schiavi venivano trattati con grande umanità non c'è alcun esempio omerico di un padrone crudele scriveva il grande grecista ora precisiamo subito una cosa siamo nel 1887 quando Jebb vive e scrive quello della schiavitù non è solo un problema astratto e libresco pochi decenni prima, lo sapete, sul problema della liberazione degli schiavi si era scatenata la guerra civile americana e Jebb aveva sposato proprio la vedova di un ufficiale dell'esercito unionista abolizionista un ufficiale che si chiamava Adam Slammer e che si era distinto combattendo nella primavera del 1862 nell'assedio di Corinto ora voi mi direte giustamente ma che c'entra Corinto che sta sull'ismo in Grecia con l'America c'entra perché Corinto o meglio Corinth era appunto una città del Mississippi ma c'era anche un Athens Atene in Georgia un centro agricolo dove esistevano immense piantagioni di cotone in cui lavoravano migliaia di schiavi neri perché usare i nomi greci? perché i latifondisti agricoli del sud i proprietari di schiavi e ancora prima di loro molti tra i padri fondatori dell'indipendenza americana si sentivano legittimamente eredi della tradizione dell'antica Grecia si riconoscevano in un mondo quello antico in cui la servitù di molti garantiva la libertà di quei pochi che affrancati dalle fatiche quotidiane potevano dedicarsi alla politica alle arti alla filosofia uno dei più illustri cittadini di Athens Atene ma in Georgia Thomas Cobb generale dell'esercito confederato morto sul campo combattendo i nordisti nel 1862 scriveva nella sua storia della schiavitù Historical Sketch of Slavery del 1859 lo schiavismo è un elemento essenziale in una vera repubblica per preservare una perfetta uguaglianza tra i cittadini e per far crescere e incoraggiare lo spirito di libertà quindi lo schiavismo come fondamento di uguaglianza e di spirito di libertà a noi può sembrare un paradosso ma è un'idea che è stata spesso sostenuta e l'eco di questo dibattito era ancora viva quando Jeb scriveva però quello che interessa a noi è lo statuto speciale che Jeb indica a dita per la schiavitù America l'idea cioè di una schiavitù sostanzialmente paternalistica e domestica meno oppressiva e meno pervasiva rispetto a quella della Grecia classica è un'opinione quella che Jeb abbozza soltanto che diverrà dominante negli studi classici dieci anni dopo la pubblicazione dell'introduzione Omero di Jeb nel 1898 lo storico tedesco Eduard Maier prima pronuncia e poi pubblica una conferenza intitolata La schiavitù nel mondo antico di sclaverai in Malpertum e anche qui sostanzialmente Isola indica uno statuto speciale della schiavitù nel mondo americo sostiene in sostanza che nel mondo americo il lavoro degli schiavi non era fondamentale per l'assetto economico della società era più importante lo sfruttamento da parte dell'aristocrazia in un modo paragonabile paragonato al feudalesimo medievale di una vasta classe di contadini artigiani liberi i non molti schiavi esistenti erano confinati in ambito domestico e trattati con paternalistica benevolenza a parte magari le schiave prigioniere di guerra la cui funzione non era comunque eminentemente economica ma quella di soddisfare i desideri sessuali dei loro padroni è un punto di vista che nella sua sostanza si ripete spesso e lo ripete alla fine anche un autore un grande un altro grande classicista un secolo dopo Moses Finley che pure con mai era polemizzato Finley sostanzialmente sostiene che solo a partire dall'età arcaica dal VI secolo a.C. la schiavitù diventa un elemento fondamentale delle società antiche i contadini si emancipano sempre più divengono proprietari delle loro terre vengono liberati dalle servitù temporane imposte per debiti per esempio ad Atene e da Solone si sviluppa un commercio che richiede una produzione sempre maggiore di beni e da qui nasce una necessità di mano d'opera a basso costo costo che porta a un uso massiccio degli schiavi è solo a questo punto della storia quindi che uno degli assi fondamentali in cui si articola la società antica diviene la divisione tra liberi e schiavi ma in Omero sostiene Finley e con lui l'hanno sostenuto in molti era tutto diverso la contrapposizione libero-schiavo non era l'asse fondante dell'organizzazione sociale c'era uno spettro di situazioni assai diversificate una varietà di status sociali tra l'elite aristocratiche tra gli aristoi e gli schiavi esisteva la moltitudine dei polloi dei subordinati che pure magari formalmente erano liberi sono quei braccianti quei manovali che per esempio già Omero chiama fetes in greco e Finley ricordava a questo proposito l'apparizione dell'ombra della psuche del fantasma di Achille nel regno dei morti nell'undicesimo libro dell'Odissea rimpiangendo la vita Achille dice preferirei lavorare come un fess per un altro per un uomo senza terra piuttosto che regnare sui morti quindi non dice preferirei essere uno schiavo piuttosto che regnare sui morti e allora è evidente concludeva Finley che un fess non uno schiavo è la creatura più infima a cui Achille può pensare ora certo l'abbiamo detto e lo vedremo la schiavitù esisteva in Omero come probabilmente in tutte le società del mondo antico anche se in verità i greci serbavano memoria di un'epoca in cui la schiavitù non c'era Erodoto sesto libro capitolo 137 ci racconta che una volta in un tempo remoto i greci non avevano schiavi e che le figlie degli Ateniesi andavano di persona a prendere l'acqua alla fontana dalle nove bocche e nea crunos ai piedi dell'acropoli cosa per cui i pelasgi gli antichissimi abitanti dell'area greca e dell'Egeo li prendevano in giro ma il discorso di Finley è un altro cioè non contesta tanto l'esistenza di schiavi in tutto il mondo antico ma distingue tra società con schiavi societies with slaves e società schiavili slaves societies solo in queste ultime il ricorso estensivo e sistematico al lavoro schiavile era fondamento dell'organizzazione economica e nella storia del mondo diceva Finley le slave societies non sono state molte anzi essenzialmente sarebbero state più o meno tre la Grecia e in particolare Atene perché già sparta una situazione più complessa ma soltanto appunto diceva Finley dopo l'epoca america l'antica Roma e poi nella modernità alcune nazioni dell'America appunto come gli stati del sud degli Stati Uniti nelle altre società antiche la presenza degli schiavi e l'apporto quantitativo e qualitativo del loro lavoro non era centrale contavano di più magari altre forme di lavoro forzato o subordinato per esempio tramite l'accessione obbligata al sovrano della propria mano d'opera oppure di parte del proprio raccolto da persone che comunque mantenevano formalmente lo status di persone libere del resto so che credo oggi stesso si discuterà anche del problema della schiavitù nell'antico Egitto io ovviamente non voglio entrare perché già è complicato parlare di Omero voglio occuparmi anche dell'Egitto di cui so ancora meno ma certo l'idea assai diffusa nell'immaginario popolare delle piramidi costruite da schiavi che trasportano enormi blocchi di pietra mentre i sorveglianti li frustano come nei fumetti di Asterix non è proprio del tutto aderente alla realtà è proprio i papiri conservati qui nel museo egizio ci dimostrano che in molti casi il lavoro veniva svolto da operai anche salariati retribuiti che persino se ritenevano di non essere retribuiti abbastanza potrebano decidere di scendere in sciopero allora quindi c'è una varietà poi di esperienze di situazioni già nel mondo antico tra schiavitù e condizione servile e il mondo americo diceva Finley rappresenta una società con schiavi che ha degli schiavi ma non è una società schiavile in cui appunto lo sfruttamento degli schiavi è quantitativamente rilevante ed è centrale negli stessi anni in cui Finley formulava le sue idee altri studiosi le riproponevano insistendo sull'aspetto paternalistico della schiavitù omerica cito uno storico italiano soltanto Alfonso Mele nel 1968 nel suo società e lavoro nei poemi omerici sosteneva che la casa di Odisseo loicos di Odisseo offriva un esempio e cito da lui di mitezza della schiavitù america di assimilazione ai liberi di vita comune e di lavori comuni con i padroni di rispetto e di affetto dei padroni per gli schiavi di relativa autonomia ed indipendenza economica degli schiavi sono le idee di Jeb di questa schiavitù l'estrepulsi ma più argomentate ora nei poemi omerici ci sono in effetti circostanze che pagliono confermare questa osservazione pensiamo alla Erte il padre di Odisseo che ci viene detto nel sedicesimo libro beveva e mangiava insieme ai suoi servi e ci viene detto che dormiva d'inverno dove dormono in casa gli schiavi nella cenere vicino al fuoco o pensiamo a Penelope che ci dice sempre Omero alleva la schiava Melantò come una figlia e le regala giocattoli a Thurmata giochi che rallegrano il cuore perciò e cito da un altro studioso il francese Yvon Garland autore nel 1982 di un libro sugli schiavi della Grecia antica è impossibile assimilare gli schiavi omerici agli schiavi ateniesi del periodo classico vista la natura patriarcale delle relazioni che legano gli schiavi ai loro padroni all'interno dell'oicos e il forte senso di solidarietà che caratterizza l'ambito domestico in sostanza il quadro che ci viene offerto per il mondo americo è questo quindi gli schiavi erano pochi stavano in casa erano impegnati nei lavori dell'oicos condividevano gran parte delle loro esperienze con i padroni erano figure subordinate ma non vessate alle quali si riconosceva comunque la dignità di persone umane poi naturalmente negli studi classici come in tutte le vicende della vita si procede per corsi e ricorsi per cui ci sono studi più recenti che contestano questo quadro in particolare nel decennio scorso proprio negli anni dieci soprattutto in ambito inglese anglosassone per esempio uno storico inglese Edward Harris in un suo saggio sulla schiavitù in Omero in Esiodo nel 2012 ha sostenuto che sostanzialmente la relazione tra schiavi padroni al contrario di quanto dice questa illustre tradizione di studi è rimasta immutata dalle origini della storia greca da Omero fino all'ellenismo ed è sempre stata una relazione di dominio e di oppressione in cui lo schiavo al di là degli occasionali momenti di gentilezza era comunque una figura totalmente priva di diritti e integralmente alla merced del suo padrone che aveva su di lui potere di vita e di morte se è vero per esempio che Penelope trattava Melantò come una figlia è anche vero che Melantò aveva un fratello che si chiamava Melanzio ed era il guardiano delle capre e siccome Melanzio si era schierato dalla parte dei proci alla fine Odisse ammazza anche lui in quella clamorosa entusiasmante vendetta che c'è alla fine del poema però mentre permette ai parenti di seppellire i cadaveri dei proci che erano aristocratici e i cui corpi non subiscono alcun oltraggio prende il cadavere di Melanzio lo mutila e lo dà in pasto ai cani questo è un esempio che fa Harris anche nel suo saggio e d'altra parte un altro servo di Odisseo molto famoso il guardiano dei maiali Eumeo che resta invece fedele al padrone pur essendo trattato con benevolenza e consapevole che la sua è una condizione di radicale inferiorità rispetto a quella dei liberi e consapevole che essendo schiavo non è integralmente e compiutamente uomo Zeus gli dice toglie all'uomo metà della sua arete della sua virtù del suo valore della sua dignità nel momento in cui lo coglie il giorno della schiavitù Dullion Emar una formula che vedremo ricorrere spesso nei poemi omirici insomma per Omero magari uno schiavo non è solo una cosa non è solo un oggetto animato come si dirà poi ma è comunque un uomo a metà questo è più o meno il quadro delle opinioni molto genericamente la questione come vedete è molto complessa come del resto tutte quelle che investono i poemi di Omero perché ovviamente bisogna riservare particolare attenzione alla specificità di un testo che è un testo poetico ed è un testo poetico di una natura molto particolare allora per esempio è vero che laerte dorme insieme ai suoi schiavi ma siamo sicuri che questa sia solo una manifestazione del suo affetto paternalistico per i sottoposti in verità questa circostanza è riferita a Odisseo dal fantasma di sua madre nell'aldilà e dal contesto si capisce che questo dormire insieme ai servi è una manifestazione di come la mente del vecchio padre di Odisseo si è ormai sconvolta e di come la vecchiaia e il dolore lo abbiano reso trascurato lui dorme lì con i servi dice la madre a Odisseo non usa coperte lussuose se ne sta recluso in campagna vestendo miseri stracci e viceversa siamo sicuri che la sorte di Melanzio essere gettato in pasto ai cani gli tocchi solo perché schiavo forse anche un qualunque contadino libero ma non aristocratico come i proci avrebbe fatto la stessa fine naturalmente non pretendo di fare adesso io qualche passo avanti in questo dibattito secolare non ho appunto soluzioni da proporvi per questo problema vorrei solo insieme a voi focalizzare brevemente ulteriormente il problema muovendomi lungo due linee una terminologica cioè analizzando alcuni termini che vengono usati nei poemi omerici per disegnare gli schiavi e l'altra diciamo poetica letteraria ovvero prendendo in esame alcuni personaggi di statuto servile come ci ha citato Eumeo e primo punto la terminologia ora tutto il lessico della schiavitù nel mondo greco è molto vario e dal punto di vista lessicale comunque i poemi omerici sembrano porsi in effetti in una posizione abbastanza particolare per definire gli schiavi Omero tende a usare termini che poi scompaiono dall'uso greco comune e a non usare invece quelle parole che poi in età classica saranno le più diffuse per esempio in Omero ne parlava ieri ho potuto seguirlo tramite il video proprio il professor Canfora in Omero non compare mai la parola andrapodon che in età successiva sarà molto comune come ricordava anche il professor Canfora è un neutro che è costruito per analogia sul termine tetrapodon quadrupede che disegna gli animali quindi l'andrapodon è l'animale umano su due piedi che però come un bue può essere razziato venduto ridotto a merce ecco in Omero questa parola brutale non c'è o meglio c'è in un solo passo del settimo libro che però già i filologi alessandrini ritenevano spurio non omerico evidentemente perché lo sentivano estraneo al lessico omerico mentre la parola più comune per indicare una persona di condizione servile in Omero è dmos al maschile o dmoe al femminile dmoes e dmoai al plurale è una parola che si è notato ritorna in esiodo e poi tende a scomparire anche se in realtà non scompare del tutto sopravvive come termine poetico specie nei testi della tragedia attica del quinto secolo ma di certo non è tra i termini che i greci di età classica usano comunemente per definire gli schiavi nell'epica dmoes o dmoai sono una serie di figure di vario genere nell'Iliade il termine compare quasi solo tranne un caso mi pare nella forma del femminile e designa per esempio crisei dell'ancella bottino di guerra intorno a cui si scatena la lite tra chi le agamennone nel primo libro dell'Iliade si è ritenuto perciò che la parola fosse etimologicamente connessa con verbi come damazzo damnemi che significano domare dominare e che quindi dmoai fossero le prigioniere di guerra le donne fatte schiave come prigioniere di guerra però nell'odissea e poi anche in esiodo il termine comprende tutta una serie di persone di mansioni al servizio dell'oicos sia nell'ambito strettamente domestico sia nei lavori agricoli e anche eumeo il porcaio si definisce dmos per cui è stata suggerita anche un'etimologia alternativa connessa con la radice dom che è quella di domos casa e quindi la natura propria o quantomeno originaria di questi dmoes sarebbe legata non al fatto di essere persone esterne alla comunità che sono state soggiogate e ridotte in schiavitù ma nel fatto di essere figure domestiche pertinenti all'oicos ora naturalmente l'etimologia serve solo fino a un certo punto perché il significato di una parola si evolve e non è racchiuso e concluso nel suo etimo prendiamo un'altra parola che invece è di etimologia incerta Dulos termine comunissimo per indicare lo schiavo nell'età classica in contrapposizione al libero e al cittadino ebbene Dulos in Omero compare solo due volte una nell'Iliade e una nell'Odissea e sempre nella forma del femminile Dule e in entrambi i casi designa una concubina una schiava che è compagna di letto di un guerriero per esempio nell'Odissea è definita Dule la schiava di cui non si cita il nome che dopo che Elena è stata rapita quindi in assenza della moglie legittima ha dato un figlio a Menelao un figlio al quale è stato imposto il nome di Megapente Grande Dolore perché è partorito nel momento concepito nel momento in cui Menelao soffriva tantissimo per l'assenza di Elena poi certo soffriva ma andava a letto con la schiava ma questo pertiene ovviamente a un ordine di valori omerici e forse maschili che ora non indaghiamo ora alla luce uno dice io Dulos lo trovo due volte solo al femminile sarà come dire un termine mentre dopo lo trovo sempre sarà un termine tardo un termine che entra nella lingua greca sistematicamente dopo Omero e invece ovviamente no perché ritroviamo la parola già nelle tavolette micenee in linea Rebide secondo millennio avanti Cristo nella forma sia anche qui sia qui sia del maschile sia del femminile doero o doera il miceneo lo sapete è una forma di greco molto arcaico reso per di più con una sorta di stenografia sillabica quindi c'è una lieve variazione rispetto al greco classico ma la parola è quella è dulos in una forma non ancora contratta ora nel mondo miceneo il termine è sempre accompagnato da un genitivo cioè si è sempre doeroi duloi di qualcuno e questo qualcuno può essere una persona singola di rango più o meno elevato da una sacerdotessa a un fabbro può essere occasionalmente anche il damos la comunità di villaggio e può essere spesso la divinità per cui si parla di doero o doera di schiavo zeolio della divinità ecco ma chi sono effettivamente per esempio questi schiavi sono veramente schiavi chi chi sono questi cosa vuol dire essere schiavo di una divinità tra l'altro noi leggiamo che ad alcune schiave o schiavi della dea vengono concesse dal damos dalla comunità del villaggio delle terre in affitto e quindi capiamo che insomma c'è una condizione che probabilmente andrebbe indagata ma le fonti le tavolette lineare B che sono sostanzialmente degli elenchi non ci permettono di farlo non dobbiamo comunque pensare di sovrapporre automaticamente la condizione del doero miceneo a quella degli schiavi di età classica perché è vero che la parola è la stessa ed è vero che dulos nel greco più tardo significa semplicemente schiavi ma non è detto che il significato fosse lo stesso nel mondo miceneo pensate alla parola basileus che nel mondo miceneo indica una figura subordinata forse il capo di una confraternita di artigiana artigiani e poi inizia a significare re sovrano regnante quindi questo mondo dei doeroi micenei che precede Omero ci resta per alcuni aspetti oscuri e va inquadrato comunque in quella natura particolare della società micenea che era una società molto gerarchica con un anax un sovrano al vertice che dominava tutto c'è però un tratto interessante cioè alcune di queste figure in specie quelle femminili sono accompagnate da un etnonimo cioè dall'indicazione della loro origine geografica ci sembra di poter identificare una serie di etnonimi che si riferiscono alla Grecia per esempio a Tebe tenete presente che queste tavolette sugli schiavi sono concentrate soprattutto nel palazzo miceneo di Pilo e poi a Knosso cioè questi doeroi non li troviamo poi ovunque quindi ci sono dei nomi che rimandano a un'origine greca ma c'è una serie di nomi che ci pare rimandare a origini micrasiatiche cioè dell'Asia minore ci pare di riconoscere per esempio una donna di Mileto ma c'è anche una di queste doerai di queste schiavi che viene definita Toroia sempre nella scansione sillabica del Micenio e la tentazione di leggere questo nome o questo epiteto come Troiana è stata molto forte ed è stata sostenuta da studiosi autorevoli alcuni hanno pensato che si riferisse invece alla città di Tlos in Licia ma siamo sempre in ambito micrasiatico allora uno si domanda è possibile che almeno alcune di queste figure femminili identificate come doerai fossero donne prigioniere di guerra schiave prese con la forza da una città sconfitta magari da Troia o rapite durante una razzia neppure qui abbiamo naturalmente una certezza assoluta se torniamo però a Domero vediamo che ricorre spesso una formula costruita proprio sulla parola Dulos cioè il sostantivo c'è solo due volte ma ci sono delle parole derivate e una di queste è quella che troviamo appunto nella formula Dullio Nemar il giorno della schiavitù e questa frase disigna appunto anche e forse primariamente il destino delle donne che vengono fatte prigioniere in guerra ce lo ricordo un passo celeberrimo del sesto libro dell'Iliad è quando Ettore incontra sua moglie Andromaca e ha la visione esatta del destino che attende sua moglie dopo la sconfitta di Troia per cui dice verrà il giorno in cui perirà la sacra città di Ilio e con essa Priamo e la gente di Priamo dalla lancia gloriosa ma al dolore dei troiani io non penso ai miei valorosi fratelli che cadranno nella polvere uccisi dai nemici io penso a te Andromaca a quando qualcuno degli acchei vestiti di bronzo ti priverà del giorno della libertà Eleuzeron Emar e ti trascinerà via in lacrime a quando in argo dovrai tessere stoffe per un'altra donna o porterai acqua dalle fonti di Messeide o di Perea che sono delle fonti presumibilmente entrambe del Peloponneso contro il tuo volere costretta dalla dura necessità Ananche e forse qualcuno dirà vedendoti piangere è la sposa di Ettore che fra i troiani domatori di cavalli era il più forte quando si combatteva intorno a Ilio così diranno un giorno e sarà un nuovo dolore per te privata di un uomo che avrebbe potuto tenerti lontano il giorno della schiavitù D'Ulio Nemar ma possa io morire possa ricoprirmi la terra prima che ti sappia trascinata in schiavitù prima che debba udire le tue griglie è un passo che descrive in modo ispirato ma anche molto realistico quello che succede molto spesso in una città espugnata i maschi vengono ammazzati cadranno nella polvere dice Ettore le donne invece portate via schiavizzate messe al servizio dei vincitori utilizzate per il lavoro ai telai per la tessitura che è uno dei perni dell'economia dell'oico so per andare a prendere l'acqua e fare questi lavori più servizi Andromaca sarà vittima della necessità piangente senza un marito che possa proteggerla in balia del suo padrone è un quadro di orrore un quadro di desolazione che Ettore giudica persino peggiore della morte del destino di chi morirà cioè dei maschi del resto poco prima Andromaca aveva raccontato che già sua madre aveva subito un destino simile quando la città di Tebe Ipoplacia di cui erano originari era stata devastata da Achille sua madre era stata fatta schiava ma poi Achille dietro un cospicuo riscatto l'aveva restituita alla sua casa ora le donne trattate come bottino le donne schiavizzate appartengono alla realtà della storia così come appartengono al racconto omerico a partire appunto dalle schiave del primo libro dell'Iliade destinati a servire Achille Agamennoni tuttavia benché Omero come abbiamo detto usi dule solo al femminile l'espressione dule o neymar non riguardava però solo le donne e come abbiamo visto la usa anche Umeo Eumeo era diventato schiavo da bambino lui stesso lo racconta Odisseo che ancora non si è rivelato e gli dice che un tempo lui era un principe quindi prima di fare il porcaio era il figlio di un re nella favolosa isola Siria ma era stato rapito con l'inganno e con la complicità della sua nutrice da una ciurma di mercanti barra pirati le due attività spesso si confondevano fenici la nave dei pirati era arrivata sulle rive di Itaca e qui la Erte aveva comprato Eumeo dai fenici ora il caso di Eumeo è quindi particolare ma forse al tempo stesso esemplare il racconto che lui fa nell'Odissea ha un carattere romanzesco con questo elemento dei pirati specie fenici che poi tornerà spesso è una piccola Odissea diciamo di un uomo umile che fa da controcanto alla grande Odissea del protagonista quindi ha una funzione narrativa letteraria di intrattenimento se volete anche ma razzie di questo tipo anche estemporane finalizzate a rastrellare schiavi potevano verificarsi anche nella realtà lasciando da parte l'antichità e venendo ai tempi più recenti i veneziani usavano questo sistema spesso per formare gli equipaggi delle loro navi come fece Marco Querini che subito prima della battaglia di Lepanto si trovava a corto di Marinai sbarca nell'isola greca di Andros piglia tutti quelli che può e li mette a remo Eumeo alla fine viene messo sul mercato dai fenici e viene acquistato dalla Erte la sua vita così come ci viene descritta nell'Odissea è certo umile guardiamo i maiali ma non di sofferenza almeno fino a quando a Itaca c'era Odisseo Eumeo ha un rapporto di devozione con Odisseo è il bravo schiavo di un padrone buono ma le cose vanno peggio dice nel quattordicesimo libro al suo padrone che ancora non si conosce dice le cose vanno peggio da quando Odisseo non c'è più e in casa gli unici maschi rimasti sono dei ragazzi il ragazzo Telemaco e i giovani principi che chiedono la mano di Penelope e destino dei servi Dmoes dice Eumeo avere sempre paura quando a comandare come signori Anactes ci sono i giovani perché ovviamente i giovani sono più impulsivi sono più arroganti sono più violenti Odisseo invece sì che gli avrebbe concesso tutte le cose che un padrone di animo buono dà a un servitore una casa un pezzo di terra e una donna desiderata da molti allora come vedete da qui possiamo dedurre che con Odisseo Eumeo poteva stare bene avere la sua casetta e avere una moglie e avere anche un suo podere un cleros per cui la sua condizione per quanto servile ci appare migliore di quella già citata prospettata da Achille nell'Ade come la più infima Achille diceva la cosa più terribile è lavorare come bracciante manovale per un uomo qualunque senza terra acleros che è quasi l'iperbole proprio della miseria e dell'isolazione però al tempo stesso Eumeo è consapevole di quanto il suo destino sia appeso al filo della benevolenza altrui non è in grado di determinare da solo la propria sorte non può neppure scegliersi una moglie e il padrone Odisseo che sceglie per lui una donna ed essendo un padrone bravo sceglierà la migliore che gli viene data in sposa al di là della differenza di genere una sorte per certi versi analoga a quella di Eumeo sembra averla Euriclea la nutrice di Odisseo quella che poi lo riconoscerà dalla cicatrice Euriclea non è una preda di guerra almeno non ci viene detto ma come Eumeo è stata acquistata nel primo canto del poema leggiamo che la Erte aveva comprato Euriclea quando era ancora giovanissima la pagò venti buoi e la onorava in casa quanto la sposa di Letta mai però si unì a letto con lei evitava la gelosia della moglie ovviamente quale ragione c'è nel ricordare che la Erte non andava a letto con Euriclea lo si ricorda perché il padrone di Norma andava a letto con le schiave lo si ricorda perché è un fatto eccezionale che ancora una volta pertiene al carattere di la Erte perché di Norma le schiave e le prigioniere di guerra erano anche se non soprattutto oggetti sessuali che servivano a soddisfare i desideri del padrone allora voi vedete che già in Omero c'è il quadro dei principali modi in cui si poteva diventare schiavi quanto fatti prigionieri in guerra acquistati cosa che poi non esclude il fatto di essere originariamente comunque prigionieri di guerra o razziati appunto in scorrerie di quel genere si poteva essere schiavi anche per nascita tenete presente che per esempio l'acquisto di schiavi seppure anche qui in testi che sono stati molto discussi sembra essere indicato di schiavi cioè di doeroi già nelle tavolette micenei e lui Godard ha scritto una cosa interessante su questo sull'uso del verbo comprare il rapporto a delle persone nelle tavolette in lineare B ma si poteva essere schiavi anche per nascita ecco Godard dice di sì anche nel mondo miceneo ma sembrerebbe di sì anche in quello omerico perché abbiamo già parlato dei due fratelli cattivi pessimi servi traditori di Ulisse Melanzio e Melantò e questi due erano essi stessi figli di uno schiavo che si chiamava Dolios e come il padre uno schiavo di Laerte e loro avevano continuato a servire poi i figli e il nipote di Laerte a servirlo male però questo è un altro discorso mentre Achille nel diciannovesimo dell'Iliade a sua volta da scontato che lui un giorno lascerà a suo figlio Neottolemo tutte le sue proprietà Ctesis e quindi la casa e quindi le sue schiavi ora che conclusioni possiamo trarre da quello che abbiamo seppur corsoriamente detto vogliamo restare dell'opinione che Omero descriva una schiavitù più mite patriarcale e domestica rispetto a quella dell'età classica preferiamo il revisionismo di alcuni recenti studiosi anglosassoni che sostengono la sostanziale continuità del sistema schiavistico nell'antica Grecia dai tempi di Omero se non da quelli micenei in poi onestamente non saprei rispondere proprenderei per la prima risposta dovendo scegliere ma non saprei rispondere anche per alcune cautele mie diciamo così metodologiche che mi permetto di esprimere sperando che non le consideriate eccessive e neanche troppo banali in primo luogo quali sono i tempi di Omero la schiavitù e i tempi di Omero non lo sappiamo nella lunga stratificazione di tradizioni che ha portato al testo attuale dei poemi è difficile dire con esattezza quale epoca quale contesto storico rispecchino esattamente l'idea dell'odissea se Euripide ci parla di schiavi noi possiamo datare a volte con precisione assoluta le tragedie di Euripide e possiamo fare un confronto per esempio con la condizione degli schiavi ad Atene nel 431 piuttosto che nel 428 avanti Cristo ma il termine di paragone per i poemi di Omero storico qual è? E al di là di questo esiste una effettivamente una società Omerica riconducibile sotto tutti i suoi profili a una dimensione univoca a un'organizzazione politica e sociale oserei dire persino un mondo di valori unitario la comunità degli Achei accampata a Troia il palazzo di Sparta su cui regna Menelao la favolosa città dei Feaci la rustica reggia di Itaca sono entità sempre direttamente comparabili ora senz'altro nei poemi omerici c'è molta realtà ma come in tutti i testi poetici è una realtà filtrata dall'invenzione e messa al servizio di una strategia narrativa di cui non ho bisogno di illustrarvi la raffinatezza e la complessità per cui come ci dicevamo prima per restare sempre su un esempio banale se laerte va a dormire con i suoi schiavi sotto una coperta ruvida e se non sfiora neppure con un dito la giovanissima Euriclea ciò non significa che ai tempi di Omero quali che essi fossero i padroni erano tutti più buoni ma a che fare con le caratteristiche del personaggio di Laerte con una sua congenita gentilezza e anche con un suo progressivo rimbambimento ciò detto ed espresse queste cautele forse eccessive resta il fatto che pur dall'interno del loro mondo di poesia i personaggi come Eumeo come Euriclea come Andromaca ci raccontano una condizione umana e un'esperienza di dolore di cui siamo ancora oggi testimoni grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti